Buongiorno, sono Massimo Valoriani, titolare della Rifrattari Valoriani, azienda nata nel 1890 e situata a Reggello, provincia di Firenze. Attualmente io sono la quarta generazione e già stanno lavorando in azienda la quinta generazione e si sta preparando la sesta generazione con due nipotini di 8 e 14 mesi. I nostri forni sono realizzati in 7 misure diverse, da 100 cm interni da 3-4 pizze fino a 180 cm da 17-18 pizze. Possono essere montati all'interno della pizzeria oppure possono partire dall'azienda già assemblati. Tutti questi modelli possono essere alimentati sia a legna che a gas. Quello che ci differenzia da tutti i nostri concorrenti è che noi siamo la fornace, quindi i rifrattari ce li costruiamo direttamente, al contrario dei nostri competitori che lo acquistano sul mercato. Produciamo forni da pizza sia da famiglia che professionali e naturalmente abbiamo bisogno del gas per la cottura dei nostri rifrattari e dell'energia elettrica per tutti i nostri macchinari. In questo abbiamo trovato un partner ideale in estra negli ultimi 10 anni. Sono Alessio Brilli e sono l'account di estra per il cliente Forni Valoriani. Abbiamo acquisito il cliente una decina di anni fa per la fornitura di gas metano in virtù di un prezzo competitivo. Grazie ad una consulenza puntuale e precisa il nostro rapporto si è consolidato e l'offerta energetica si è completata. Oggi offriamo anche la fornitura di energia elettrica. Grazie a tutti.